La Maremma è tutta green questa settimana per l'Italian Challenge Open all'Argentario. La Pro-Am è un antipasto gustoso di un grande evento che vedrà in campo 156 atleti da tutta Europa per uno dei titoli più ambiti del circuito. Oggi in campo insieme agli amatori più forti del ranking e gli azzurri che stanno spiccando il volo in uno strabiliante 2024. Il campo richiede molta attenzione soprattutto nei t-shot che diventeranno molto selettivi nelle quattro giornate di gara. Condizioni preferite dai comandanti delle classifiche europee e da quei giocatori che fanno della precisione una ragione di vita. Le partenze del primo round inizieranno dalle 7.30 del mattino terminando alle 14.30 così da permettere un grande show ad ogni ora. Ne siamo certi, sarà una gara con grandi colpi di scena tipici di questo percorso toscano che fa della tecnica la richiesta principale ad ogni torneo. Questa settimana passate all'argentario. Ci sono trucchi del mestiere da imparare, 16 italiani da tifare ed il futuro campo dell'open d'Italia da scoprire. Swing your life!